Buon pomeriggio Josephine, sono tornato a Macerata ed ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni. La notte del mio sequestro a Milano, Berlusconi, sfondato anche di droga, uccide un poliziotto. Ratzinger dilagna un bambino, sacrificio necessario per completare il rituale. L'Opus Dei aveva finalmente sequestrato Gesù, il figlio di Maria, il Messia, l'uomo dal pene abnorme. Sono abbastanza sicuro che abbiano sbagliato persona. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.